Dopo la bella ed avvincente prova con Pinerolo, il Volo di Soverato prepara la partita di domenica prossima. Prima trasferta del campionato, fondamentalmente si va a Catania. Allora con Chiara Riparbelli presentiamo questa sfida con Catania, una squadra che comunque nel suo roster vanta degli elementi di esperienza e qualità. Sì, la prima trasferta perché abbiamo fatto le due partite in casa, abbiamo avuto un turno di riposo. Diciamo che ci stiamo preparando bene perché dalla partita di domenica scorsa ci portiamo dietro la grinta, la carica e tutto, però rimaniamo con i piedi per terra, nel senso che la vittoria di domenica vuol dire tutto e vuol dire niente. Nel senso che abbiamo dato, secondo me, una dimostrazione di esserci, di grinta e di unione del gruppo. Però diciamo che è la seconda partita che abbiamo disputato, quindi c'è ancora un campionato molto lungo da fare e tutte le partite sono complicate, ormai è la stessa cosa che dico da quattro anni, però credo che sia così. Nel senso che ogni partita è a sé stante e ogni squadra è a sé stante e Catania sarà, secondo me, un avversario ugualmente, diciamo, tosto da affrontare così come lo è stato Pinerolo. Oltre ad essere la capitana del gruppo sei la veterana, quella che è qui da più anni. Tra l'altro un gruppo ampiamente rinnovato, però le sensazioni che si sono avute in queste prime due partite sono quelle di un gruppo che comunque paradossalmente sembra che giochi insieme già da un po' di tempo. Sì, questo mi fa molto piacere, ovviamente ricominciare ogni anno con la maggior parte delle ragazze nuove è un lavoro difficile soprattutto per lo staff e diciamo che forse noi giocatrici siamo anche un po' più abituati ogni anno magari a chi cambia squadra, io no perché ho quattro anni che sono qui, però comunque a conoscere ovviamente 11 persone nuove. Quest'anno abbiamo la fortuna di esserci trovate già subito, nel senso che c'è molta sintonia tra di noi e la cosa che ci accomuna è la voglia di fare. Credo che ognuna di noi per motivi diversi abbia dentro un, possiamo dire, quasi un fuoco che ci porta a voler fare bene. Quindi questo credo che sia la cosa che abbiamo in comune e che ci porta poi a volere la stessa cosa quindi a giocare bene, a dimostrare e cercare di mettere tutta questa passione che abbiamo dentro in campo. Uno dei volti nuovi della Ranieri International Soverato è sicuramente la centrale Sara Taillè ha la sua prima esperienza qui in Riva all'Oionio. Allora domenica si va a Catania, prima trasferta del campionato contro una squadra comunque ostica però voi dalla vostra avete anche l'entusiasmo e la voglia generata dalle prime due vittorie casalinghe della stagione. Assolutamente siamo molto entusiasti del risultato che abbiamo fatto domenica questa domenica ci aspetta una partita molto importante chiaramente contro un avversario buono perché tutti gli avversari in questa stagione, in questo campionato non sono da sottovalutare e hanno importanti giocatrici dentro e in settimana stiamo appunto facendo un buon lavoro e ci stiamo preparando al meglio. Dicevamo sei qui per la prima stagione, qui a Soverato, una squadra ampiamente rinnovata solo due elementi del roster dell'anno scorso quindi esperienza nuova anche per te, nuove compagne, nuovo staff tecnico. Il giudizio dopo i primi mesi qui di permanenza a Soverato, tuo personale? Io ho sempre sentito parlare bene di Soverato e quindi venivo già con delle buone parole, buoni propositi chiaramente essendo arrivata al primo anno tutto nuovo così mi aspettavo appunto un periodo di adattamento invece ho trovato un ambiente fantastico sia da parte delle giocatrici quindi gruppo squadra sia dalla parte dello staff e si lavora bene, siamo seguite sotto ogni aspetto quindi veramente poi siamo in un posto fantastico e non potrei chiedere di meglio.